L'Italia è interessata dal transito di un'ampia saccatura nord-atlantica cui si associa aria fredda alla media troposfera. Nelle prossime ore il sistema tenderà a portarsi sui Balcani, favorendo un incremento della pressione sia al suolo che in quota. In Toscana, mercoledì 23 maggio, nuvolosità variabile con possibilità di rovesce temporali con meridiani nelle zone interne, generale miglioramento in serata, venti tra deboli e localmente moderati occidentali nelle zone interne, dimestrale sulla costa e narcipelago, mari tra poco mossi e mossi, temperature in aumento alle massime con punte fino a 24-25 gradi. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a poco nuvoloso o sereno, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 12, massima 25 gradi, a Castelnuovo-Garfagnana zone montane minima 11, massima 25, a Via Regge sul litorale minima 15, massima 20 gradi, giovedì ancora poco nuvoloso o nuvoloso e temperature in ulteriore aumento.